Il tema politico della settimana è stata che la Meloni ha conquistato anche le candidature per i governatori, per le elezioni regionali. Salvini è un po' sotto schiaffo, diciamo sembra non avere opposizioni. Lo dicevo io prima nell'introduzione, il premierato forte è già realtà? Spero che gli italiani lo capiscano e quindi si attrezzino per bocciare la riforma costituzionale. Se la Meloni vuole farci capire che cos'è un premierato forte, in effetti un po' anche grazie alla collaborazione sia degli altri componenti della maggioranza che anche delle opposizioni ci riesce. A me non piace un sistema nel quale c'è una persona sola che comanda. Io preferisco una democrazia con l'opposizione, mi piacciono le coalizioni anche perché si discute e stare insieme tra persone che hanno anche visioni diverse non sempre significa litigare o fare soltanto rapporti di potere, ma anche trovare soluzioni migliori e naturalmente mi piace un sistema di garanzie, di pesi, di contrappesi e quindi non solo non sto apprezzando l'azione del governo e della premier, ma soprattutto l'idea di prefigurare attraverso l'oggi quello che potrebbe essere il domani, ovviamente peggiorato dal fatto che non ci sono più neanche le norme di garanzia. È una preoccupazione. Sì, in effetti.